qui in piazza Roma il totale silenzio, una totale attenzione per cortesia perché a partire sarà l'ultimo concorrente della gara, per vincere non bisogna commettere errori e migliorare quindi ad essere più veloci di 34 secondi e 17 in tempo ottenuto da Nicola Rodinetti a partire in Zella Corin c'è Cristian Pizzianti a partire in Zella Corin a partire in Zella Corin è un grande campione pensate vince la gara fermando il cronometro a 34 e 12 contro i 34 e 17 mi ricordo Rodinetti che è cara ma stasera torna ad essere lui il grande protagonista Cristian Pizzianti a partire in Zella Corin